E voilà! Oh, aschi, ma che ha dormito qua? E' questa mattina che sto qua, mi ha fatto venire così presto. Ma guarda che te sei sbagliato, io non ti ho detto niente, aschi, eh. Ma che è sta cosa? E come che lo conosci questo, eh? Non sai la mattina, non mi è come, eh. Ma, stai a casa, stai. Ma come che stai venuti a qua, aschi? Ma lo sai lì chi ci abita? No, chi ci abita? La fazzita. Davvero? E' un'altra cosa, oggi c'ho un'idea grandiosa, c'ho il cervello che mi scureggia. Senti, fa una cosa, eh. Mette dietro a quel cespuglio e non te muove. Mi raccomando che mostri facciamo un sacco per i sacchi. Ok. Io vado, eh. Ah, capisci. Ma mo che succede per io ? E che mo movi ? Buongiorno, buongiorno signor Eccola, eccola, eccola Meno 4, meno 3 Mariucci, pica ? Ma no, c'è niente, non c'è niente E' arrivata la posta per me ? Ah si, gliela prendo subito Ecco signor Riecola, riecola, riecola Si, si, vieni, vieni, vieni da Pierino tuo Vieni così, bravo, bravo Ah, Mariucci ? Oddio, se ne è arrivata Si, senza, le chiavi ce l'ha, lei Va bene, quando viene l'idraulico gliele può dare Va bene, grazie Attenta, le scale sono bagnate Ho visto ? Riecola, vieni, 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 vieni che fa data a scuola, vieni Vieni, bravo, così, così, così Vieni, vieni, ecco, ecco Ma, 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 ma Non, ma, 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 co, ma, ma, guardi, grazie Oh mer Mia, ah 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 pim Mi sono armata Guarda che e', eh, ti�� Si è pure servata Veracopo Oh mio dio, ti ringrazio Ah, sono tutta sana Si Ah!